In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Selodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno, Papa. Quindicesimo episodio La visione del mondo nella luce di Dio Un'altra volta il diacono Servando, abate di un monastero costruito un tempo in Campania dal Patrizio Liberio, era venuto come di consueto a fare visita a Benedetto. Frequentava con assiduità il monastero, poiché, essendo anche egli uomo tutto impregnato di dottrina spirituale e di grazia celeste, si scambiavano tra loro parole di vita piene di dolcezza, pregustando, con l'ardore del desiderio, il suave alimento della Patria Celeste, di cui non potevano ancora pienamente saziarsi. Ma giunta ormai l'ora del necessario riposo, Il venerabile Benedetto si ritirò nella parte superiore della torre e il diacono Servando in quella inferiore. I due piani sono collegati da una comoda scala. Davanti alla torre c'era un edificio più grande in cui dormivano i discepoli dei due abati. Mentre i discepoli stavano ancora riposando, l'uomo di Dio Benedetto si era alzato e vegliava anticipando il tempo della preghiera notturna. Egli stava davanti alla finestra e pregava con fervore il Signore Onnipotente. All'improvviso, proprio nel cuore della notte, volgendo al cielo lo sguardo, vide che una luce diffusa dall'alto aveva messo in fuga tutte le tenebre della notte. Il suo splendore era tale che, pur brillando in mezzo all'oscurità, superava la stessa luce del giorno. Mentre stava così in contemplazione, accadde una cosa davvero meravigliosa, come Egli stesso in seguito raccontò. Il mondo intero, come raccolto in un unico raggio di sole, fu posto davanti ai Suoi occhi. E mentre il venerabile Padre fissava con sguardo penetrante lo splendore di quella fulgida luce, vide l'anima di Germano, vescovo di Capua, portata in cielo dagli angeli dentro una sfera di fuoco. Volendo procurarsi un testimone davanti a così straordinario prodigio, due, tre volte chiamò forte per nome il diacono Servando. Questi, scosso dall'insolito gridare dell'uomo di Dio, subito salì, guardò, ma vide soltanto una piccola scia di luce. Vedendo lo stupefatto per un tale prodigio, l'uomo di Dio gli raccontò con ordine tutto ciò che era avvenuto, e immediatamente mandò a dire il fedele teoprobo di Cassino di inviare qualcuno in quella stessa notte alla città di Capua per avere notizie del vescovo Germano e riportargliele. Così fecero, e l'inviato trovò il reverendissimo vescovo Germano ormai defunto. Informatosi in modo più dettagliato, venne a sapere che era morto proprio nel momento in cui l'uomo di Dio aveva contemplato in visione la sua scesa al cielo. Pietro, è una cosa davvero meravigliosa, e mi colpisce profondamente. Ma tu hai detto che, quasi raccolto in un solo raggio di sole, il mondo intero fu posto davanti ai suoi occhi. Io non ne ho mai fatta l'esperienza, e quindi non posso nemmeno immaginare una cosa simile. Come può, infatti, il mondo intero essere abbracciato dallo sguardo di un solo uomo? Gregorio, imprimiti bene nella mente, Pietro, ciò che ora ti dico. Per l'anima che vede il creatore, la creazione tutta intera è ben poca cosa. E sebbene essa abbia contemplato soltanto una minima parte della luce del creatore, tuttavia l'universo intero le appare ridotto a una misura assai piccola. E' infatti la stessa luce della contemplazione a dilatare la sua interiore capacità di penetrazione, e nella misura in cui si espande in Dio, essa è sollevata e resa superiore al mondo. C'è di più, l'anima di colui che contempla viene sollevata persino al di sopra di sé stessa. Rapita nella luce di Dio e portata al di sopra di sé, essa si dilata interiormente, e guardando dall'alto comprende quanto sia angusto ciò che non avrebbe saputo vedere, mentre ancora si trovava nella sua umile possibilità naturale. E' quindi certo che Benedetto soltanto nella luce di Dio potè vedere quel globo di fuoco e distinguere in esso gli angeli che ritornavano in cielo. Nessuna meraviglia dunque, se vide tutto il mondo raccolto davanti a sé, colui che sollevato nella luce dello spirito era già oltre il mondo. Tuttavia, dire che il mondo era come interamente raccolto ai suoi occhi non significa affermare che il cielo e la terra si erano rimpiccioliti, ma piuttosto che si era dilatata l'anima di colui che contemplava. Egli, infatti, sollevato in Dio, potè facilmente vedere tutto ciò che si trova al di sotto di Dio. Alla luce che splendeva esternamente ai suoi occhi corrispondeva nell'intimo una luce spirituale. Proprio questa rivelava l'anima del contemplante rapita nelle realtà superne quanto fossero piccole tutte le cose del mondo sottostante. Pietro Sia lodato Gesù Cristo In nomine Patris e Fili e Spiritus Santi Amen Sia lodato Gesù Cristo In nomine Patris e Fili e Spiritus